Allungare il molo Manfredi e realizzare un altro volume accanto alla stazione marittima lanciando un concorso di idee. È il sogno del presidente dell'autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, l'avvocato Andrea Annunziata, che parla di ambiziosi progetti il giorno dopo l'approvazione del documento di pianificazione strategica di sistema, lo strumento decisivo per lo sviluppo della portualità campana che ha avuto l'ok. Esatto, allora è una cosa bellissima perché il documento di pianificazione strategica ha i 45 giorni necessari per il silenzio assenso. Sono contento che non ci sia stato il silenzio assenso perché si sono pronunciati i comuni, per cui con dei suggerimenti che recepiamo senza problemi perché vanno nell'indirizzo dell'interesse generale, per cui sono recepiti, il prossimo comitato di gestione approverà. Partiremo subito con i piani regolatori che saranno altrettanti veloci. Non dimentichiamo che l'abbiamo approvato in neanche 80 giorni. L'abbiamo costruito e approvato il documento di pianificazione strategica. In questo documento noi abbiamo e dimostriamo la validità dell'autorità di sistema perché finalmente stare insieme diventa un valore aggiunto. Ecco, il pericolo che poteva venire fuori tra Napoli, Salerno, Castellammare, realtà un po' diverse tra loro, sta invece dando quello che si sperava, la possibilità di fare sistema e di crescere tutti quanti sempre di più. Nel piano regolatore una delle cose più belle che vediamo, intanto attenzione per il settore pesca, il settore del diporto, parliamo di queste cose che di solito non vengono citate perché si parla solamente di grandi infrastrutture, di banchine, di dragaggi, cose che si stanno facendo, si continueranno a fare, ma il mio sogno è realizzare un altro volume, allungando il molo Manfredi, un altro volume accanto alla stazione marittima attuale di Zadid. Vedremo un concorso di architetti che potranno darci un volume importante per dare una mano alla stazione marittima che è un gioiello di architettura ma che non potrà sviluppare tutti i traffici futuri. Io prevedo che nel giro di 5-6 anni potremmo arrivare anche a 800.000, 900.000 passeggeri solo per le crociere. Noi non dimentichiamo che eravamo arrivati a circa 400.000 prima della pandemia, quando sono andato via. Quindi non toglieremo niente né a Napoli né ad altri, ma cresceremo insieme perché, ripeto, Napoli sta beneficiando di Salerno e Salerno di Napoli. Stare insieme per davvero mi sto accorgendo in tutti i posti del mondo dove si va, di una realtà variegata ma importantissima. Il PNRR ci darà gli ulteriori finanziamenti che vengono dall'Europa per la pandemia che c'è stata, ci daranno nuove possibilità di crescere ancora di più pensando anche alle zone economiche speciali. I posti di Napoli, Salerno, Castellamare e anche altri porti della Campania saranno importantissimi per dare vitalità e possibilità ai retroporti e a chi vuole investire, a chi già ha investito nel passato e ai nuovi investimenti. Speriamo che presto possa partire il tavolo con la nomina del commissario perché siamo pronti a rilanciare un'attività economica che non si è mai fermata e questo per davvero grazie a tutti gli operatori. Ma io dico grazie a una città.